La moraggia è ancora tot, si è rovescita, e quindi è successo qualcosa, la mamma viene, forse ha bagliato la moraggia, ommorino, 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 la battuta, senza far portare, il tutto è casparato, quindi a prestare un filaraggio a presto, ma devi mettere la bavacca, e che cavolo! forse la morazia fatto meno bene avrebbe visto sentire le taracche di vita ma è parato per la vita per il proposito lo stato maggiore ancora non ci colleghiamo con la legge della traduzione riunito e ci dicono che aspetta la metà non è difficile ad eliminare per avere un quadro complessivo ma è presente tutti i suoi alcuni anche da un'idea per dare potente che dai sono allora senti a un momento far bravo dai apri la bocca perché mu fai dai fai il bravino fai il bravino steff è il bravino steff mi muore mi muore di mamma dai su fa il bravo dai bravo così si fa così si fa basta basta miau eh 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 fai la pipina fai la pipina la pipina la pipina fai la pipina ma che c'è questa sera eh non ti piace la telecamera pipina dai bravo oh quanta pipina che fai bravo dai вол bambino Ciao 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 ciao